Elena Fiore è una caratterista attiva nel cinema italiano dalla prima metà degli anni 50, fino alla prima metà degli anni 80 come interprete in varie commedie, per lo più in veste di popolana verace, in particolare nelle pellicole dirette da Lina Wertmuller. Ha lavorato con diversi volti noti del cinema italiano, soprattutto con Giancarlo Giannini e Mariangela Melato. Tra le sue interpretazioni più significative, il ruolo di Amalia Finocchiaro e Mimi Metallurgico ferito nell'onore, 1972, in cui viene sedotta e abbandonata da Giancarlo Giannini. Il ruolo di Teresa Pescosolido in Bella, Ricca, Lieve difetto fisico, Cerca anima gemella, 1973, infine il ruolo di Anita, la madre di Faustina nel Marchese del Grillo, 1981. In quest'ultima apparizione, Elena Fiore è doppiata da Daddy Savagnone che le diede uno spiccato accento romanesco.